Ah, che bello. È arrivato quel periodo dell'anno in cui si riuniscono tutti i lavori e si manda tutto online. Chiamiamolo Reel, l'highlights dell'anno che sta andando a concludersi. Lo farò anche io, tra pochissimo, così avete tutto il tempo di decidere se chiudere immediatamente il video o continuare a guardarlo. Prima, però, un velocissimo pensiero. È stato veramente un anno di m***a, un grandissimo anno di m***a, st***o. Vi faccio i miei auguri, per tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E iniziarono a passare i giorni. E' restaurato e riportato a nuovo, chissà. E siamo nel mio nuovo studio. Ma non è l'altro. Ma non è l'Alexander. Ci sono riuscito! E iniziarono a passare i giorni. Grazie a tutti. E ho! Mi sono riuscito!